Marco Betti, una bandiera della ristorazione italiana nel mondo, chef 18 stelle Michelin, 22 punti e 5 centesimi sulla guida dell'espresso, 12 forchette con 3 cucchiai di resto, su gambero rosso, il top, e lui, Mario Cagoli, l'aiutante. E voilà! Eccoci qua, brutti e belli, biondi e morelli, sia sempre quelli. Eccoci qua in Cusquina anche oggi, gentili amici per proporvi una ricetta e noi mi fanno un giro di balzeria. Grazie, un balzerino per far capire la metratura della cucina. Eh, dà, 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 dà. Allora, detto questo, siamo pronti a partire, no, non l'ho fatto, non l'ho fatto, a partire con la ricetta di oggi, che ha un nome ben preciso, non è una roba buttata lì così, ha un nome ben preciso. Eh, già, già. Ve lo dice lei? Crema bicolore nel piatto. Bicolore. Cioè, sì, è una crema a due colori, viene impiattata a un passato. Lo vedremo poi. Però, esatto, via. Quante palle, chef, il pallometro esige la sua... Qua, allora, tenendo conto un po' di tutto, tenendo conto un po' di tutto, noi incavandoi, perché le pone a crema. Teni a zocco le mani, che mi estrapolo la palla, eccoci qua, e là, e tornare a volta, e là, due palle, via! Bene, via! E via il pallometro, signori, due palle, quindi sarebbe però una palla e mezza. Esatto. Allora... Come si comincia? Cosa serve? Cosa serve? Allora, per la crema... Allora, dobbiamo fare due creme di base, no? Due creme di base. Allora, una cipolla, che andremo a tagliare a metà, e metteremo su cipolla e patate, cipolla e carote. Perché? Per fare le due... Per fare le due... Esatto, le due... Ancora, che faccio pelare roba, che sia roba pronta a pelare, è una gaveta che li fa tutti, su per le navi, dentro per le cosine, al boccia, è giusto che si fanno un masco così a montare roba. Partiamo veloci. Sì, cosa faccio? Io... Ti pela la stigola, che mi pelore. Non podo, non podo, perché mi è venuto il grampf da... Osa capì. Da tennista. Osa capì. Allora, così... Oh, sì, le patate sì, le patate sì. Ciotolina. Ciotolina per le sbronche. Così, da, dei benetti, bravo. Grazie. Allora andiamo a pelare. Ecco, allora... Ecco così. Benissimo. Penso di fargola. Penso di sì. Allora, intanto possiamo ringraziare sempre gli amici del sito, lo ricordiamo. Veramente, veramente, grandi, grandi amici del sito. Abbiamo superato le migliaia di visite, proprio, diventati tutti matti. Ma veramente, veramente bravi, bravi, perché i nevi sini, i nevi sini della tradizione, dai che... I nevi sì. Allora, intanto ero il pela, intanto ero il pela. Sì, le patate. Le patate. Il nostro chef va ad affettare, affettare. Fago una piccola, una piccola fondo di cipolla. Puoi dirmelo, però, che mi tiravo un po' pulla. Sentai che te cipollavi. Stiamo vicini, vicini. Stiamo vicini, vicini, Mario. Va bene. Eccoci qua. Va bene, va bene. Dove le ho pelate? Quante che servono? Mi penso che ne viene abbastanza. Mi resti qua, che da una slavo la quale. Se che ancora la sordora non lavora. Pela, 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 pela. Io ne pelo un'altra, gentili amici, ne pelo un'altra di potata, di poteito. Perché ormai ho un parà, che tocchi dappertutto, ma dopo, insomma... Vedete la cipolla nel piatto? Vi preparà, vi preparà... Mamma, madre. Sono usato, sono usato. Massa laureate, massa laureate. Sono usato, sono usato. Ecco, amici, allora... Ha visto patate, carote, ma fa per la roba. E comincia a acquistare stima nei miei confronti? O lei perché non aveva voglia? Lu? Le patate, le cipolle, in un piatto vi mettete in una bacinella, ok? Perché? Perché questo andremo a metterlo in una pentola. Sì. Il resto le mettiamo in un'altra pentola. Eh, perché sennò cuoce nella stessa pentola, il bigusto, diventa... Bravissimo. Vai con la carota. Prova a lavarla. Vai con la carota. Cos'è che favo con la carota? Le peli, ce le penano anche alle carote. Ecco. Esatto. Ecco, l'ho pelata. Bravo. Pelo anche all'altra. Avanti al motore. Zac, se sapevo ancora che stavo a casa, perché c'è ma una nonna, perché chi? È ancora... È il madad da far, te. È il giornale del lavoro, ancora il giornale del lavoro, perché... È il madad da far. Eccoci, amici, allora... Amici a casa... È un piccolo segreto, tagliate le piccole, tagliate, facendo che ti piccoli. Perché le se cose prima... Bravo, bravo. Pian pian è le pari. L'ha detto, le se cose prima. Bravo, bravo. Cioè, come si suol dire? Sì. Come hai tolto le parole di bocca, madonna. Come ha detto lei quando? Quando è che la dite? Poc'anzi. Poc'anzi, po'anzi. Sì, po'anzi. Fatalo gli applausi. Ma la storia di questa ricetta, la sappiamo? La storia, caro. La storia, lei la storia. La storia, lei la storia. Andi, Andrei. Allora, avanti. Ecco, l'ho pelata anche a questa. Bravo. Pado a mangiare le tocchette, intanche. Scusa, la taglio dei greens. Perfetto, grazie. Le carote le fa bene agli occhi. Sì, difatti, questa l'ha mai vista. Che è già dita? Punei con i occhi. E via le sbrocce. Bene. Allora, buono. Allora. Vedi qua, amici? Fai tocchetti piccoli. Così, facendo tocchetti fini, intendo un attimo le se cose, vi capì? Bravo, 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 bravo. Bisogna che le dica alla nonna, perché... Non posso rispondere perché sono pieno di carote in bocca, se ne approfitta. Bene. Ho chiesto ancora. Può tagliarla a me? No, no, no. No, fai così, vada. Fai così perché... Deve durare in quartola, no? Sennò la dura... Ma no, ma mi capisco benissimo che par... Però, te sai come che lei... Sì, ma mi rubo il mister vardando, però ogni tanto bisogna anche che provessi, maestro. Bom. Possiamo andare nello studio 2? Io mi sposte... Cioè, possiamo spostarci in zona cottura? Andiamo in zona cottura. Bene. Qua abbiamo nel piano cottura, due pentole calde, amici, l'olio... L'olio, eccolo qui, maestro. Allora, filo d'olio. Filo d'olio, sì, guardami, perché i fili d'olio di voi, chef... Filo d'olio. Le meslittro, no, dai. Adesso... E in una gettiamo la patata, amici. Guarda, guarda, guarda. Si vede? Si è visto? E in una... Perché non potremmo farlo rivedere, ma... E in una gettiamo la carota. È abbastanza semplice, finché... È semplicissimo, ok? Ti ha pure i piatti, maestro. Fuoco alle... Scusa. Fuoco alle trombe. Scusa. Mesto Lino. Mesto Lino Tech. Tec. Mesto Lino Tech. Allora, qua, adesso andremo a impreziosire il tutto. Salutiamo Lino Vices, a che mi dì, Lino. Eh, grande, Lino. Ciao, Lino, ciao. Ciao, Lino. Nuovo in fatto. Minestra dei Succhi, perché non la te piace? Ecco, solo per questo, no? Le amiche che avevano in fondo, quella dei Succhi. Va bene. Bene, allora, amici a casa. Maestro, grazie. Sì, un po' più in là. Eccoci qua, la patata. La patata, la patata, la patata e la carota, amici. La carota, la carota. Eccoci qua con la carota, il suo bel colore. E la cipolla. E la facciamo andare a fuoco allegro. Come è fuoco allegro? No, fuoco allegro. Fuoco vivace. Vivace, vivace. Nonostante noi abbiamo l'induzione qui, la tecnologia. Certo, ma non possiamo... Ma chi, volente mettere che sono quel goccello, lei mi disse poco prima, che c'era un trucchino per fare... Non sta rubarmi il poco anzi? No, è nato, un po' prima, un po' prima. Buono, bravo. Di mettere del latticino. Adesso qua. Lo vogliamo fare quella cosa lì? Non volevo dirvelo, non volevo dirvelo. Però, però... Ormai l'ho dita. Allora... Ormai l'abbiamo detto. Per andare a... Per? Per andare. Cioè, per andare a impreziosire... Strega un po' più in là, sì? No, se no, riscende. Fatti più in là. Bene. Allora... Impreziosire. Esatto. Sbiancare. La crema di patate, perché ci sia più... Contrasto. Eeeh, contrasto. Di contrasto, voglio un applauso anch'io, però. Oh, grazie. Di contrasto. Tra il bianco della patata... E il rosso. E il rosso, con l'arancia e la carota. Andremo a bagnare la patata con latte, amici. Con latte, un semplice latte. Oh, latte. Semplice latte. No, no, no. No, no, no. No, volevo capire di che tipo di latte... Andremo a mettere... Le lasciamo un attimo... Le lasciamo un attimo... Andare. Andare. Andare, in biondì. A fuoco, a casa e lo sa. Lascia allenar, un attimo. Che non vuol dire... Lascia allenar, come dire... Lascia che lavaga la matelota, no! No, lasciatele a fuoco a... Bene, lasciamo che vadano un pochino. Lascia che lavaga così... Lascia che lavaga! Bene. Che qualcosa che suona! Quanto sarà l'angelo po? E l'angelo po? E l'angelo po che ne protegge! Allora dicevamo quanto tempo mi deve rimanere tutto ciò? Poco, poco perché le tagliate poco nel senso che mi piace che lui non daga misure no 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 perché dopo quel delle grafiche sotto che mi tocca lasciar chi con l'oroloio che mette mezzo ora. Poco, poco. Allora abbiamo dado, sale aromatico e dopo mangiamo con il resto. Comincio col dado, ecco qua che non tocchi mezzo. Benissimo, allora venire a mettere un pochino di dado amici. Un tocco. Tutte e due ovviamente no? Un po' per banda, un po' per banda. Questo qua fumettelo. Questo qua, come sempre, sale aromatico. Il re di giù, silenzio qua. Questo qua ormai è un master, è un master, è un master. Però a casa non demotivatevi, fele lo stesso le robe che le va bene, lo stesso. Certo, questo l'aromatico le guadagna, prima o poi la fai ne sta puntata. Certo. E' bene. Poi altro, altro chef. Ecco. Ah no, adesso. Poco a mescolare le mie le pandelotte. Si, adesso mi, Naria, prego prego. Vole ronare le confessionali un tanto? Sì, però sta attento che viene sotto i tocchi di carota e metterle le occhi. Ah, ho capito. Certo, certo. Ok? E con tanti po' di metri, in tanti migli che vado via nati, ti metti un bicicletto di latte, basta un po' di sbruzzare, e un po' di acqua in occhi. Va bene. Ma per piacere. Ascolta, per piacere. Ho capito. Ecco, allora, come hai visto, ho detto, provo a cercare 30 secondi di responsabilità di mettere l'acqua, le carote, il latte, le patate. Però sono sicuro con l'anima a mano, scusami, ma non sono sicuro che mi raccoglie. Cos'è che mi dite a fare? Non è che mi mette il latte, non è che devo metterlo? Non mi ricordo più. Aspetta che torna, per finta che ho fatto tutto. Ecco, ho da messo quello che devo mettere, però se vuol mettere ancora un po'. No, no, chi ne? Se vuol mettere ancora un po'. Forse, chissà cosa che ti hai detto. No, no, mesno. Dite che hai detto. Un po' di latte qua, bravo. Non sta a schizzare. Un becher la dite. Un becher. Era una caraffa, sta qui. Allora, la caraffa, una caraffa. Allora, a questo punto l'acqua qui dentro. Che la metto a me? Sì, guarda. Che la metto a me? Bravo, bravo, a favore di camera. A favore di camera. Ed eccoci qua. Ed è qui si settisce il fricicorio, perché l'acqua va a stemperare. Esatto, esatto. Adesso chi la sa chi vaga, in poche parole. Va bene, allora diciamoli questi minuti, quant'è che deve andare? Sì, guarda, mi diria, non so, 10 barra 14 minuti. Così. Barra 13, dai. No, basta, barra, perché dopo ciò non diventa storia. Perfetto. 10 barra 14. Esatto, lasciamo che vadano e dopo andremo ad emulsionare. Allora, ok. Ma, però, facciamo per gradini. Sì, intanto chi ha ben finito, non è là, voglio dire, no? Eccoci, tornati nello studio 1, la base, la base dove parte tutto, è vero il progetto. E adesso siamo arrivati all'emulsione. Attenzione, perché sta per arrivare il momento nel quale, coi do cazzotti, e il deve metterli, secondo me, se mi sia su tutto, il deve diventa una broda di un colore che non si capisce le patate o i carotti. Vai mo'. Attenzione, attenzione amici. Sì. E via, via la crema bicolore. Guardate, guardate, guardate. Ma che spettacolo. Vince per poche spanne la patata. Eccoci. E questo ci piace. Allora, 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 qua, 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 ragazzi, possiamo, possiamo, possiamo fare gli artisti. Possiamo fare gli artisti. Qua possiamo andare a mettere sopra, possiamo poggiarci un gambero. Un gambero. Un gambero. Un gambero. Do fin ferli. Do fin ferli. Una fietta di brisa. Una fietta di brisa. Ode mo' così. Ode mo' così. Così. Ode mo' così. Ma però, oggi noi che cosa gli appoggiamo? Un po' di pepino? Vado col pepino? Questo è un tuo, è una tua prerogativa. Sposto la padella. Vai con le creme. Via con le creme, amici. Ecco il piatto. E qua, dopo, potete benissimo fare, 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 vedete? Ah, fare quella sorta di yin e yang. Il bene, il male, l'amore, l'odio. Fare piccoli giochi. Vado a pestare? Piano. Aspettiamo. Piccolo filo d'olio e pepe. Ai, caramba! Macinato al momento, con il pastesci, il pesto e il febbre. Là. Boh. Eccoci qua. Sempre va. Boh, 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 boh. No, depuno. Olio. Olio, olio. Lo metta lei. Questa volta voglio vedere come se la cava. Ecco, ma lui che è il de su stroppa. Hai capito com'è che l'è la questione? Signori, vi aspettiamo la prossima puntata. Rivedete questa e tutte le altre sul sito. Ti ho godito guardare sul sito. Che l'indirizzo, magari, se che l'ho detto. www.pomodoriperadi.it Ma la sappiamo la storia di questo piatto? La storia della storia! Boh, basta. Alla prossima, grazie. Boh. Ed eccomi all'assaggio. Assaggiamo la crema bi gusto. Adesso, però, miscio tutto. Miscio tutto. Forse, non so se l'è contento il chef. La fago è misce. Se dice in francese, è misce. Quella con la patata l'è perfetta. Quella con la carota è un po' in dirio di sale. Ed ora, cari amici, vediamo insieme una delle azioni obbligatorie... Obbligatorie? Secondo me? Obbligatorie? Obbligatorie per far parte del progetto per la sostenibilità del servizio di Eco Ristorazione Trentina. Brava, grazie. Secondo me non te si vedeva. Informazione, formazione ed educazione ambientale. Informare i principali portatori di interesse dell'ottenimento del marchio Eco Ristorazione Trentino. Inoltre, informare i clienti della possibilità di adottare comportamenti ambientalmente sostenibili. Allora, guarda... Dei mangiare una patata. Che le faccio questa patata? Cassi, cassi. Allora, eccola qua. Patata. No, è pertinente, è pertinente. Ci siamo? No, amici a casa, benvenuti nella mia cucina. Oh, prossimamente sarà così. Sarò io da solo. Uah, uah, uah. Ci siamo? Ah, 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 prova, prova. Via, 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 via. Bene, 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 bene. Bene, perfetto. Grande, male. E via, ma io mose tutto il dia. E la metti! Allora, eccomi qua nel confessionale perché... No, è ben così! Grazie, no, è benvenuti. Vago via. Un attimo. Torno. Niente. Fa così. Fa così. E la metti! In collaborazione con Cassa Rurale di Trento Banca di Credito Cooperativo Unica, personale, inconfondibile Unica Unica Perbit Unica per